Aiuto! San Gennaro! San Gennaro, aiuto ma tu? Mi avete chiamato. San Gennaro, per favore. Aiuto, mi sto bruciando vivo! L'unica speranza che hai di salvarti è di buttarti dalla finestra. Come? Siamo qui in piano, mi faccio male. E allora io che ci sto a fare? Ah, mi ho pegato a volo prima che mi spiaccico. Ti faccio atterrare sano e salvo, come una libellula. Faccio un miracolo. Hai sicuro? Ho come il sangue che qualche volta si scioglie e qualche volta no. Ehi, ma non ti fidi di me? No, io sì, ma è la gente che ti fida. E allora facciamo un prezzo. Sì, sì. Ma come mi butti di pancio a cofanetto? Ti facciamo un prezzo che tengono poche freddo. Sì, sì. Allora uno, due, e tre! No! No! Non c'è un secondo piano un iago! Ciao, D'Ambrosio! Buona, sei che? Sei che, sei che! A vuoi finire di pigliare il mio posto per fare gli scherzi ai meridionali? Eh, ma Gennaro, come sei permaloso! Si faceva così tanto per ghignare, no? testina